Prendete qualsiasi arma! Titto, le arti, ogni cosa! Portatele al rifugio! Presto! Si mette male. Come usciamo da qui? La porta sarà chiusa. La segheria. Il grosso edificio a destra con le torce. Da lì si esce? Sì, va attraversato. Perfetto. Andiamo. Vedete tutto! Isoliamo il campo! Lei protegge il nostro bambino. Libera la mente. Sarà un'unica nuova. Non sono pronta. Lo sarai. Per i tuoi fratelli e la tua terra. Al momento fortuna. Erg... Si. Si. Non so ne vede tutte le torree. Oh no! Oh no! Grazie a tutti 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 Ok Forse siamo al sicuro È stato pazzesco Ci stiamo appiccinando Porca merda Per un pelo E adesso? Grazie a tutti Grazie. Ti prego, proteggilo. Ti prego, proteggo. Ti prego, proteggo. Ti prego, proteggo. Ti prego, proteggo. Dove stiamo andando? Vedi quella torre? Lo Space Needle? Cosa? Sì, la vedo. Prosegui di là. Ma è vero, sono così tanti i lupi. Decine e decine. È potuto succedere. Non importa ormai, tu stai pronto. No, 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 no. Oh, fai scampi. Ti preoccupiamo per nulla, i lupi non possono se si spingi fin te. Che lei ci protegga. 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 Vediamoci. Mia! Veniva da laggiù. È passato qualcuno Matthew! Mi pare venisse da laggiù Oh! 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 Oh, 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 oh. Grazie a tutti. 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 Joshua, credo arrivasse da quella direzione. No, ma... Ti vedranno. È qui. Andiamo. Come va il braccio? Fa male. Di qua. Andiamo. Grazie a tutti. E questa. Oh, grazie a tutti. Lev è stata lei. Io ho provato a parlare. Io ho provato a parlarle. Andrà. Andrà tutto bene, te lo prometto. Voglio andare via. Sì. Sì, anche io. Sì. Vieni. Ragazza. Andiamo. 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 I lupi. Andiamo. 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 Ehi lupi? Sì. Sì. Come va il braccio? Bene. Sono solo stanca. Yara. Mamma credeva con tutto il cuore. Lo so. Allora, perché è andata così? La fede non rende immortali. La vita è segnata da perdite. Lei ci guida. In fondo alla strada. Dentro. Presto. Area sicura. Speriamo. Abbiamo appena terminato. Qual è il piatto? Andiamo alla capitale. Prendi la sua squadra e rifiuti i villaggi tre sole fattori. E voi di qua. Sotto la porta. Presto. Quelle persone hanno bisogno d'aiuto. Non possiamo fare niente. Lo so. Stavre di qui. Oddio. Non possiamo restare qui. Lev. Abby. Di qua. C'è un modo per evitarli. Sì. Proviamo a cambiare strada. Il vicolo dall'altra parte. Vai. Sotto al camion. Abby. Devi aiutarci. Coraggio. Il lupo è ancora qui. Non lo so. Non fermarti. Tiara. Di qua. Ne ho uno. Tiara! Abby? Tiara! Tiara, alzati! Tiara, ti prego! Lev, dobbiamo andare. No! No! Vedo qualcuno! Non posso lasciarla qui! Indietro! Cercala! Subito! Porca troia! Abby! Alzati, indietro! State fermi! Isaac. Che diavolo stai facendo? Devi starmi a sentire. Chi è quello lì dietro? Gli devo la vita. Togliti, con te faremo i conti a casa. Non è dei loro, ti prego! Abby, spostati! Cristo è solo un bambino! Ti do tre secondi per allontanarti da quella iena. Uno. Vuoi spararmi? Due. Non mi sposto, cazzo! E... No! Ma che cazzo? Spare, Aleph! E' un po' che vuoi scappare! Vai! Lev, dobbiamo andare. È morta. Oh mio Dio, è morta. Lev, andiamo! Quella era la tua gente! Sei tu, la mia gente! Ascolta. Dobbiamo batterci per uscire da qui. Ho bisogno che tu mi porti a quelle barche. Nessuno ci deve fermare. Ok? Ok. Ok. Seguimi. Prendi il tuo segno. Ho già quello che serve. Il tuo segno. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.